E allora partiamo subito dalla riete. Per ottenere ciò che desiderate non potete contare solo sul vostro sex appeal, pur così sottile e coinvolgente. Puntate anche su simpatia e intelligenza. Toro, lasciandovi aiutare a diventare più costruttivi e previdenti dalle stelle odierne, il progetto su cui stavate lavorando si realizzerà. Saprete far fronte a qualsiasi imprevisto. Gemelli, qualche tensione in amore a causa degli eccessivi impegni e le troppe incombenze da espletare, ma che potrete però superare velocemente. Con astri contrari, ritmi intensi e tante cose da fare, il tempo sembra non bastarvi mai. Cancro, nelle questioni economiche tenete alto lo scudo. Invista qualche spesa obbligata e uscite straordinarie. Controllate i conti, siate previdenti. Viferete con trasporto alla vostra relazione con la dolce metà. Leone, per merito del consiglio autorevole di un amico, riuscirete a scansare un'iniziativa inconcludente e a focalizzare le forze su propositi molto più vantaggiosi. Le stelle vi renderanno dinamici e intraprendenti come non mai. Vergine, considerando le stelle di oggi, supererete splendidamente la stasi lavorativa in cui vi sentivate relegati e affronterete questioni annose e complesse. Rendi conto bancario rassicurante. Bilancia, se individuate punti scricchiolanti nel vostro rapporto con il partner, non perdete tempo. Meditate bene sulle scelte da operare e poi agite a colpo sicuro. Siete disponibili invece con un collega. Scorpione, grazie all'aiuto delle stelle, potrete finalmente ricontattare qualcuno che avevate perso di vista dopo un'incomprensione. Sappiate mostrare più spesso apprezzamento nei confronti di quei collaboratori che vi dimostrano stima. Sagittario, oggi sarebbe meglio stare un po' alla larga dalle persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Sfogare le energie in eccesso con nuotate, corsa, giri in bicicletta, migliorerà il vostro benessere. Capricorno, sul lavoro saprete rispondere alla perfezione alla richiesta di svecchiare procedure, rinnovare tecniche e metodi. Oggi sfoggiate un colpo d'occhio straordinario, siete affascinanti e saprete come cavarvela in ogni dove. Acquario, un problema a prima vista potrebbe sembrarvi senza soluzione, ma quando deciderete di darvi da fare per superarlo, lo risolverete tempestivamente. Possibilità di praticare dello sport e di trarne grandi soddisfazioni. Pesci, oggi l'amore avrà un ruolo sempre più importante nella vostra vita e nei vostri pensieri. Ne vivrete anche i lati più sognanti. Le stelle continuano a oliare i meccanismi, offrendo l'opportunità di riscuotere successi a ripetizione. Grazie.